Gli operai dell'impresa d'Aronzo sono sul cantiere ogni giorno, i lavori possono dirsi completati al 70%, ma ci sarà ancora da attendere diversi mesi per vedere terminata la realizzazione delle opere di superamento del passaggio a livello di Viandria. La data del 28 maggio, annunciata sei mesi fa da RFI e rilanciata dal sindaco Cannito come termine dei lavori, non potrà essere rispettata. E' quanto emerge dal sopralluogo sul cantiere operato questa mattina dalla Commissione Consigliare dei lavori pubblici, insieme al sindaco Cannito, la sua giunta e i rappresentanti di RFI, Italferre e Ferro Trambiaria. Il progetto di costruzione di due sottovia carrabili e pedonali, uno in Viandria e l'altro in Via Vittorio Veneto, sta risultando più complesso del previsto anche a causa dell'assenza di un'adeguata mappatura dei sottoservizi. L'ultimo problema sorto nel cantiere riguarda il completamento della rite di raccolta delle acque meteoriche e la realizzazione della cosiddetta Condotta 1006. L'ennesimo ostacolo di natura tecnica ha spiegato l'ingegner Calogero Parla di RFI che ha fatto slittare nuovamente il cronoprogramma dei lavori. Abbiamo chiesto all'ingegnere Parla di RFI di darci una data, lui si è riservato di darci a giorni un altro cronoprogramma, atteso che abbiamo capito che il precedente cronoprogramma non potrà essere rispettato per una serie di altre problematiche di natura tecnica che sono collegate soprattutto alla raccolta delle acque meteoriche, al famoso canale 1006. È un problema che loro non avevano previsto e che noi abbiamo voluto fosse previsto, altrimenti dovevamo tornare a rompere il cantiere per mettere su questa rete, questa condotta del 1006 e quindi avremmo fatto sopportare la città dei costi inimmaginabili oltre al fatto che dovevamo ritornare sull'opera e quindi romperla. Quindi c'è stata un'intesa dove abbiamo detto facciamo questi lavori in un'unica insieme in maniera tale che non si ritorni più a sfasciare e a ripristinare. Altro problema che rallenta la conclusione dei lavori sono gli espropri, quello di una struttura privata che ostacola il cantiere sul versante di Andria costerà al comune circa 180 mila euro. Il problema legato agli espropri sarà risolto l'8 maggio a Napoli, ma là i soldi ce li abbiamo e anche là ci sono problemi di natura burocratica, di cessioni e acquisizioni e di ricessioni. Così l'altro problema che dobbiamo risolvere è il problema di queste imprese che stanno qua sopra, che hanno fatto causa al comune per avere riconoscimento ai loro diritti e noi stiamo lavorando su questo. Inaugurati nel febbraio 2019 i lavori dovevano concludersi da cronoprogramma iniziale il 25 giugno 2021, poi anche a causa del covid il termine è slittato a febbraio 2022 ed infine al 28 maggio 2023. Nessuno sul cantiere ha voluto sbilanciarsi su una nuova data di ultimazione delle opere. L'auspicio dei tecnici è che entro l'estate possa essere concluso e reso percorribile il sottovia di via Andria, mentre per quello di via Vittorio Veneto bisognerà attendere la fine dell'anno. Sono dettagli che in tutti i cantieri ovviamente strafacendo possono venire fuori, l'importante è che vengano bypassati con la volontà, con la capacità, la tenacia e la professionalità dei tecnici che stanno seguendo le opere perché come vedete voi tutti e come oggi i cittadini possono notare attraverso la stampa e quindi grazie a voi le opere stanno andando avanti e siamo veramente nella fase di completamento delle stesse.